Buongiorno carissimi, bentrovati in questo 2 febbraio, festa della presentazione del Signore al Tempio. La liturgia della parola di oggi ci presenta un brano tratto dal profeta Malachia, siamo a capitolo terzo, i primi quattro versetti. È vero che potremo ascoltare come prima lettura anche il testo tratto dalla lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 14 al versetto 18. Però è interessante proprio la prima lettura, un vetero testamentale di Malachia, perché qui si parla di un messaggero. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Qui c'è la prefigurazione della venuta del Cristo, perché la presentazione di Gesù al Tempio, chiamata festa della Candelora, è un Dio che va verso l'umanità. Infatti il brano del Vangelo di oggi, tratto dal capitolo 2 di Luca, dal versetto 22 al versetto 40, ci racconta proprio l'incontro, così chiamata festa della Candelora in Oriente, festa dell'incontro, di Gesù con Simeone ed Anna nel Tempio. E allora Gesù è venuto per purificare, Gesù è venuto per purificare i figli di Levi, c'è un nuovo sacerdozio, visto che Gesù è il sommo sacerdote della nuova alleanza. Allora Gesù viene incontro all'umanità, viene incontro a noi, è accolto fra le braccia di Simeone, un uomo che era pio, un uomo giusto, un uomo che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Atteggiamenti importanti che caratterizzano la vita stessa di Simeone e di Anna, che era lì nel Tempio, offriva le preghiere a Dio, con preghiere e digiuni. E anche lei ha potuto vedere con i suoi occhi, ecco, il Signore, il Salvatore. Ma quella candela che oggi, verosimilmente, andando durante la celebrazione, avremo fra le mani, è il Cristo. È il Cristo che viene incontro alla nostra vita. Già in virtù del battesimo noi siamo stati uniti alla vita di Cristo, e pertanto questa appartenenza, questo essere Suoi fratelli, figli dell'unico Padre, ecco, ci aiuta in maniera molto profonda a presentarci così come siamo, nella consapevolezza di accogliere, come ha fatto Simone fra le braccia, il Signore, accoglierlo sempre di più nella nostra vita, perché questo incontro sia un incontro bello, di testimonianza, anche verso il mondo della bellezza e della comunione con il Signore. Ecco perché oggi, il 2 di febbraio, si festeggia la vita consacrata, e quindi non soltanto i religiosi, le religiose, che in maniera piena vivono quei consigli evangelici, povertà, castità e obbedienza, ma nello stesso tempo, ecco, vogliamo ricordare tutti quei laici consacrati, istituti di vita religiosa, cioè di vita apostolica, quei laici che, inseriti anche nei loro ambienti di lavoro, si sono consacrati al Signore, e pertanto vivono una vita di donazione. Ecco allora che questa giornata sia veramente la giornata dell'incontro, dell'incontro vero, bello, profondo, quello che Simeone ha detto, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce, per rivelarti le genti e glorie del tuo popolo Israele. Il nostro incontro con il Signore sia anche luce per rivelare alle genti la bellezza di avere un Dio che viene incontro all'umanità. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, buona festa della Candelora, ma nello stesso tempo tanti auguri e un cammino di santità per tutti i religiosi e i laici consacrati. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.